Ancora più vicini. Ancora più vicini. Ancora più vicini. Ancora più vicini. Da dicembre Icaro TV passa al digitale terrestre, una tv con tanti canali gratuiti, più informazione, più sport, più cultura, più servizi interattivi e tutto in un unico ambiente digitale, gratuito e facile da ricevere. Più vicini di così.